Un benvenuto da parte di Biagio Mannino. Molte sono le implicazioni che il vertice G20 di Bali ha avuto nel contesto globale, ma soprattutto l'incontro bilaterale tra Biden e Xi Jinping, quell'incontro che bene viene rappresentato da quella fotografia in cui Biden e Xi Jinping sorridenti si stringono la mano. In quale direzione andrà il mondo sostanzialmente, ma soprattutto quella guerra in Ucraina che di fatto sta mettendo in difficoltà non solo l'Europa, ma gli equilibri dell'intero assetto globale, inclusi quei settori dell'economia, del commercio, della finanza. Immediatamente al vertice di Bali e all'incontro bilaterale tra Xi Jinping e Joe Biden è seguita solo poche ore dopo una intensificazione degli attacchi russi nei confronti dell'Ucraina. Anche quello ormai accertato incidente ha rappresentato motivo di grande preoccupazione, soprattutto nel cercare di capire in quale direzione effettiva possa andare la guerra. Ma i toni immediatamente si sono mostrati forti nella determinazione di portare verso invece un'altra via, quella della distensione. Immediatamente Joe Biden si affrettava nel cercare di calmare la situazione dicendo che probabilmente si sarebbe trattato di un incidente e così poi sostanzialmente è stato dimostrato. Il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, generale Mark Milley, ha detto che l'Ucraina difficilmente potrà vincere la competizione con la Russia sul piano militare, ma con l'arrivo dell'inverno probabilmente le operazioni militari inevitabilmente subiranno dei rilentamenti e questo potrebbe portare a dei tavoli di discussione. Un segnale molto importante questo di Milley che sembra riaprire le possibilità di un colloquio tra Ucraina e Russia per cercare di arrivare a una sorta di compromesso e possibilmente auspicabilmente anche intraprendere la direzione di una conclusione del conflitto. Toni di distensione quindi che non si erano mai visti dall'inizio della contrapposizione, anzi se vogliamo, da quando nel mese di maggio del 2021 100.000 soldati russi venivano portati al confine dell'Ucraina. L'impressione è che a seguito del vertice del G20 e soprattutto come detto dell'incontro bilaterale tra Xi Jinping e Joe Biden si è giunto il momento di traprendere una nuova direzione. Il mondo ha vissuto gli effetti delle conseguenze delle scelte prese per imitare la pandemia di coronavirus dal partire dal 2020 e così la guerra in Ucraina andando a colpire i settori soprattutto di quel commercio, di quel commercio ormai globalizzato e che ha messo a repentaglio la stessa realtà produttiva globale. Un intensificarsi delle contrapposizioni potrebbe portare a quella soglia del non ritorno e che di fatto andrebbe a compromettere il già precario sistema mondo e da qui la necessità, la necessità di prendere una via nuova che possa portare ad una effettiva distensione e una ripresa di cui tutti hanno bisogno. Per oggi questo è tutto.